L'amministrazione Biden invierà per la prima volta a Kiev le munizioni perforanti all'uranio impoverito. Dovrebbero essere sganciati dai carri armati americani Abrams nel giro delle prossime settimane. Ma tutto a posto? No, perché è notizia delle ultime ore che la Russia ha reso operativo il missile balistico strategico intercontinentale Sarmat, creato per eludere i sistemi di difesa occidentali. Questo missile a un raggio d'azione dei 18 a 20.000 chilometri ha la capacità di trasportare quindi di sganciare contemporaneamente 15 testate nucleari. Distruggerebbe Berlino in 106 secondi, Parigi in 200 secondi e Londra in 202 secondi. Eppure ancora oggi non si parla di diplomazia, non viene utilizzato questa parolina magica, anzi si continua a soffiare sui venti di guerra e ciò che non si riesce proprio a comprendere, non so se per dolo o proprio per poca capacità intellettiva, è che questa non può essere una guerra, non lo è mai stata, tra Russia e Ucraina. Perché non credo che Putin renderebbe operativo il missile Sarmat per colpire i vicini di casa. Beh, del senno di poi, sono piene le fosse.